molto elevato, ma immagino che negli anni anche questo prezzo andrà a carare, ci saranno i nostri produttori, anche la parte di generizzazione della produzione sicuramente migliorerà, quindi è un elemento molto importante. Dopodiché, dopo i viaggi in Europa, si è proprio questa l'unofobia, un risultato è fatto di non essere attuati a mangiare gli insetti fino a quando si è da lì. Una soluzione è quella di inserire l'insetto all'interno, come dicevo, c'è il Vomonicon, uscì di direttore il Vipo e il Vatten tonight, quindi perdona un po' di presente, ma ci c'è non lo pagano aackerla, che non c'è nvero sp Daddy Un po' che va bene la differenza, è quella che l'intensore della competenza di non percepire, è questo quello che' il punto si assalgo proprio male. Passare i pastelli, quindi c'è parte del sole della farina e il calma sempre un sapore così... la mia è l'automobile, anche con una piña di giallostia, il video è un altro video, quindi la mia è una piña che il colono è finito, e la mia è la prima risposta di dividere, una piña di giallostia che si investe, La parola è una cittadina. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.